Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo nuovo video su Call of Duty Da come potete notare, non sono da solo perché in mia compagnia c'è Rendi Renna Ciao E Sbucci Ciao a tutti Come vedete stiamo giocando una delle mappe che non fanno parte del DLC perché volevamo giocare in dominio Quando scegliamo quelle del DLC purtroppo ci compaiono delle modalità davvero strane Tipo postazione, quindi preferivamo qualcosa di classico Oh no raga, cosa ne pensate voi? Io sono morto Diciamo che io odio le modalità che ci sono nel DLC quindi Aspetta Se evitavamo era meglio però Ok allora io vorrei tipo vincerla questa quindi mi raccomando raga Vorresti Questa la vinceremo al 100% Se vi abita di raccogliere una nemetica prendetelo almeno guarda a terra che c'è una nemetica fighissima ragazzi Ok, ok va bene Io sto cercando di prendere C Oh guarda quello, guarda quello, muori, muori Eh, che pareva Io sto cercando di conquistare C ma ho visto qualcuno che è appena esploso davanti ai miei occhi Io, ero io Ah ecco Aspetta aspetta Gio, arrivo Dai che prendo C dai C'è solo Vai presa Un grosso problema di questa mappa E oramai come tutti stanno Spucci attento eh Eri tu sua No 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 Ok no Questo tabù che esce sempre Che esce sempre cosa Come si chiama Quella mappa Combine Esce sempre Combine Ma è vero eh Non è che è un tabù E quindi queste mappe per me sono mappe nuove perché Non le faccio mai Guarda aspetta ce ne sono un paio eh lì Davanti Sì c'è un camper qua giù L'hai ucciso? Sì Oh attenzione attenzione davanti eh Mi sa che era Sbucci che stava giocando lì Eh sì Non l'ho preso manco una volta Hanno fatto questa patch In pratica Dopo tot votazioni Basta Non più che votarla Meno male Grazie Hanno capito Che forse non era il caso Di fare una sola mappa Però cavolo Dopo un bordello di Call of Duty Nemmeno si si è imparati Su sta storia Sì ma vabbè Comunque può avere anche un piccolo senso Comunque se la mappa piace Sì Ma magari limitalo Però non farmi lo fare Trecentomila volte Comunque B è loro E non c'è Non c'è nemici su Non c'è nemici su Dov'è che stanno Guarda Lorenzi Come corre davanti Sì e io sto cercando Su B non c'è nessuno Su A non c'è nessuno Eh una renna che non corre C'è renna Prendiamo A Prendiamo A Aspettate ma Sono tutti Madò 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 Una cosa ragazzi Ma quando sono invisibile Quando ho la mimetizzazione Il talon mi vede comunque Ma guarda Sì Perché io ero steso Ero steso Mi ero buttato su B Per conquistarla Conventissimo Che mimetizzato Il talon non mi vedesse E invece Mi ha tribellato Dai che ancora sto talon Forse Forse ti vede Perché fa comunque Quello strano effetto Sì tipo Che vede Il calore umano Sto roba così Esatto Perché prendiamo C eh Occhio su B Occhio su B Eccolo qua No Stiamo aspettando quello Ma è un clan Abbiamo contro un clan Non ne ho idea Sinceramente No Sono tre persone Possibile Tutti dietro Tutti Comunque ragazzi Se vi interessa Hanno potenziato l'arciere Io prima lo utilizzavo davvero tantissimo Era fighissimo E sono morto di nuovo Ma sono comunque Prima dovevi tipo mettere Cioè il colpo doveva andare esattamente Dentro il milio dell'arciere No Adesso invece basta E ci vada vicino Più o meno E infatti Li si attacca Il colpo addosso E muore Ah tipo Sentex Esatto Era quello che stavo per dire Cioè in pratica Basta che si avvicini Il colpo Non importa Vedi Vedi Pam Li colpisco tutti Non manca un colpo Che spettacolo Io sto usando La tipa La pistola era La gestione Io non riesco a vedere Sì anche io L'ho usato molto Aspetta Dovrebbero venire da là Tra l'altro In questi giorni Sto guardando un sacco di streaming Di pro player Che giocano E vedo un po' di armi Guarda che No Sono morto all'ultimo istante Attenzione alle spalle Attenzione alle spalle Ah no Chi è questo tizio E' attenzione anche alle palle Nel caso Anche C'è gente che arriva Dai Bene così Ricarica Come siamo messi Dai che ce la possiamo fare Su Sì sì Siamo solo dieci uccisioni sotto E' già vinta questa Ma magari Adesso Facciamo di vedere chi comanda Ho visto un po' di bordello là Ma dov'era? Guarda là Da dietro Bam Cioè io sono Ragazzi 2-9 E guarda Sbun 2-9 Ma sono secondi in classifica Proprio perché Sto conquistando le basi Quindi L'importante è conquistare Sì sto seguendo l'obiettivo Però vorrei evitare Di Ma perché non muoiono? Conquistare un po' come in amore Insomma Attenzione Sto conquistandoci da solo Mi sento un po' Arrivo 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 No Dietro dietro Un secondo Sto arrivando E' morto Sei morto Sbunci Sì E io ho fatto fuori Chi è che c'è ancora su C? Rendi 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 Dai che la prendiamo questa Vai Si procede Dove sono tutti però? Non si sa Non lo voglio nemmeno sapere Allora io sto entrando nella casetta Qua ce ne sono un bordello Diventiamo invisibili E qui ci sta un bordello Facciamo vedere a sti tizi chi comanda Guardalo quello che vede comunque Ma come ho fatto? Guardalo Riesci a vedermi comunque nonostante fosse invisibile Tra l'altro sto round finirà E noi saremo in vantaggio in questo round Perché finiremo con un punto in più esatto E se prendiamo anche questo Arrivo arrivo Sbucci Arrivo qui Bene così E due punti Ma se no vedevo solo Sbucci Madonna mia Tra l'altro ragazzi c'è un punteggio davvero schifoso Però ho preso 7 Guardate le belle emblema Guardate le belle emblema Guardate la meccanina il mio emblema Sbucci Sì è lui Sì è vero Mi hai anche venditato Ma pure la emetica è fighissima Sì la emetica è molto figa Bene bene E intanto siamo già in vantaggio E partiamo ragazzi Partiamo Cattura le zone e difendile Dai mi devo casare un attimino Perché due dieci Con un ratio di 0,2 Due Due Adesso E' perso Che cosa ha detto C'è una idea che comanda ragazzi C'è una idea che comanda Dai dai Eccolo che sei mio Ucciso Ma da dove compare Io sono su B Io vorrei prendere B Però sono indeciso Non lo so Qui c'è un nemico che è dietro il nostro Io vorrei provare ad andare su A Però credo ci sia gente E infilo il gomito Non si sa dove Madonna questo bug è ancora Tra malta la mira Ecco la Mamma mia ragazzi Io sono caduto Non di Mamma mia Perché non sto registrando Ragazzi sono su B Sono bravi Bravissimi Due ragazzini qui Ok tiro fuori l'arco Basta Mi sono tolto il cazzo Sì ma come fa lui A avere sempre l'arco Perché io muoio di continuo Perché Perché Buce Bravo Io l'arco Perché l'ho comprato Eccolo lì Ti pareva il C4 su C Ma non è possibile Guardalo finalmente Uno lo uccido Guarda quello con cecchino Finalmente Che vittoria Ucciderne uno Non vale però A mettere il C4 sulle due posizioni Ma io raga Ricordo i primi tempi In cui riuscivo a fare Un bordello di kill Pantin tozze serie E poi è finito tutto Inesorabilmente Guarda che non muoiono C'è proprio Sono immuni ai proiettili Hanno una sorta di siero Che li cura No raga io non ho capito C'era questo Fermo dietro un angolo Guarda lui Guarda lui dov'era Qui sopra Guarda lui c'è chilo Guarda lo brutto Guarda questa Guarda Ci mette davvero troppo tempo Ad uccidere i nemici Mettiamo un po' di meno Oh a destra A destra A destra Non mi danno manco il tempo Di cambiare arma No 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 A destra davvero Cavolo So che non scherzai Però mi sono rimasto stupito lo stesso Eh si Guarda loro mi sanno Guarda loro mi sanno Guarda lì Qui non vede con nessuno Ma è assurdo Eccolo qua e poi arriva Ma come che non lo fanno E vabbè ragazzi Ma comunque gli ho colpiti Ho la granata Gli ho colpiti con i proiettili Ok io sto prendendo Con tutto gli ho colpiti La partita È un po' più sfigata della storia per me Ma i bombardamenti sono nostri mi sa No 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 Oh ragazzi Questi mi hanno rotto le palle Stanno camperando davvero come poi Perdono Ma io infatti Non li vedo Non li vedo e mi compaiono improvvisamente davanti No no Questi Questi perdono alla stragrande Io ho fatto due kill Che mamma mia Ma manco i peggio Pro play Uno Due Tre Cos'è uno due tre Pum Hit marker di granata Ma al solito Eramai è un classico Non li vedo Dove sono tutti Mamma mia Mamma mia raga Il devasto Ma perché non mi prendete Fa queste cose anche a me In continuazione Sto morendo Eccolo Finalmente Ho salito l'ucciso E vai che abbiamo preso B La dobbiamo mantenere E finalmente si riparte Con il mirror war Che va a livello 16 Adesso mi comincia a gasare Ok E vabbè dai Sono morto la torretta guardian Ma non può nemmeno uccidere quella torretta di merda E invece E invece E invece adesso gli sparo un caricatore Esatto E non succede niente Guarda quanti ce ne stanno Sua riesce a beccarmi comunque 3 Ragazzi non è possibile Questi cintano Ok ho spaccato Ma io mi sono bloccato raga Dove? Ho chiamato gli aerei Mi si è buggato tutto E non me li ha fatti mandare Ti sei incriccato Il gioco Sei buggato il gioco No vabbè adesso è andato Mi sono sblocato Ma cos'è ma guarda Questa dobbiamo subire E adesso vi proviamo A ucciso anche il secondo Ok ho ucciso anche il secondo Grazie Dai venitevi ad aiutare Qualcuno sta arrivando Ho beccato la testa Finalmente un'azione come si deve Finalmente un'azione come si deve Via da qua Ragazzi sono 28.000 cristiani su B Proprio 18 C'è una chiesa praticamente Aspetta 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 Vai che ci arrivo eh su B Ok Ora che sono invisibile Ora che sono invisibile Guarda adesso non sono più invisibile Mi fa fuori invece no Ragazzi comunque l'arma Che era una merda Il Kuda davvero non mi piace per nulla Prima lo utilizzavo spesso ma C'è mi ha Mi ha fatto davvero Giocare malissimo Non Sì Sì Non lo utilizzerò mai più A meno che Ok c'è Sarello su ci stanno arrivando C'è potenziato Aspettiamo un attimo eh Tensione Io tiro fuori ancora l'arco Nuovamente Sì ma per l'ennesima volta Ma com'è possibile Non lo so Non lo so nemmeno io Bucci l'arcero Aspetta che vado ad aiutare No ti ha ucciso quello Aspetta No ce ne sono due No Non si voglio credere Uno Due Tre No raga Stanno facendo un rimontone Incredibile Non possiamo permettere No no Ma questo Però siamo comunque in vantaggio È la grande È matematicamente impossibile Mi distruggono Non possono fare 30 punti Mentre ne facciamo solo 10 Dai che stiamo a 190 Però si conquistano anche C Aspetta Ma non è possibile Ma si stoppiano No raga dobbiamo prenderne una Abbiamo preso C Abbiamo preso C Allora lo riprendiamo Guardalo Guardalo Già andiamo a prendere B Ti vedo dove sei Ma nangera là Sei mio Ti vengo a prendere Sono girato Lo vediamo lo è Non c'è più Non c'è più L'hanno ucciso Dove 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 raga Pure magia Le spalle Mi aveva Uh mamma Muori Mamma Mamma mia che uomo Che giocatore Sono il loro spawn Voglio fare l'ultima kill No la faccio io Io l'ultima L'ho fatta Ma non è l'ultima Pensavo fosse l'ultima Eh no Dai guardate Guardate Ragazzi Aspetta Ragazzi Sono tutti morti 198 Ragazzi Raga andiamo su C Resta l'ultima Resta l'ultima Non facciamo cozzate Dai Abbiamo vinto raga Ho fatto una partitora davvero inguardabile Però almeno ne ho catturate parecchie Dai raga L'abbiamo vinta Quindi questo è l'importante È meglio giocare per obiettivi Quando facciamo partite In cui giochiamo ad obiettivi Ok Perché se no Esatto Ma quello ci aveva lanciafiamme in mano Sì Perché io non c'ho queste cose fighe Quindi ragazzuoli Spero che questo video vi sia piaciuto Io vi lascio anche i video di Randy e Sbucci In descrizione Mi raccomando Passate per i loro canali E iscrivetevi Quindi vi faccio salutare anche da loro E alla prossima Ciao Ciao a tutti Ciao belli Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti